Musica 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 Oh dai it's louder Grazie a tutti. Grazie a tutti. Da questa fanaliera a led, loro sono i polzetti Massimo e Micaela che non vanno a casa a mani vuote perché 93 di gruppo e secondi di classe. Grazie. Alla duecentesima coppa, non te lo ricordi più, capisci? Ciao Micaela! Ciao, ciao, ciao Massimo!